Lo sottolinea più volte il vice sindaco e assessore al commercio di Gallarate, Rocco Longobardi. Eventi come il Choco Moments in arrivo dall'8 al 10 marzo sono con e non contro le attività cittadine del settore. Alla prima edizione della Fiera del Cioccolato il fattore tempo aveva giocato a sfavore. Eravamo un po' sotto data, invece quest'anno siamo riusciti ad organizzare il biglio. Quindi già al momento sono tre le attività della nostra città che sono state coinvolte. Un'attività di ristorazione, una scuola, un pub che abbiamo noi a Gallarate e ci sono anche diverse altre attività che si sono proposte per partecipare. Verranno premiate anche associazioni sportive del territorio e così è stato interessante perché siamo riusciti a coinvolgere parecchie situazioni della nostra città. Per noi è fondamentale perché abbiamo anche parecchie pasticcerie nel nostro territorio e quindi un evento che riguarda la qualità in generale ma qualità sicuramente non superiore a quella che noi abbiamo già a Gallarate. Quindi secondo me è un evento molto importante e piano piano spero anche nella prossima edizione dove riusciremo a dedicare uno stand, credo, anche esclusivamente alle nostre attività. L'invito ancora aperto continua a Longobardi per chi volesse aderire scrivendo all'indirizzo mail di riferimento ciocoducale.gmail.com Vi aspetto tutti l'8, il 9, il 10 per un evento forse più dolce dell'anno. Grazie mille!